ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono t e oggi siamo qui per analizzare un nuovo elemento scp oggi di fatti analizzeremo lscp 081 anche chiamato virus della combustione spontanea elemento scp 081 classe dell'oggetto euclid procedure speciali di contenimento solo coloro che hanno un permesso scritto e chiaro di livello 4 da parte di possono accedere a scp 081 strumenti completi a rischio biologico inclusi tuta guanti e tannica d'ossigeno devono essere indossati tutto il tempo quando si è presenti nell'area di contenimento le tute devono essere spruzzate con una doccia chimica prima di lasciare l'area se è presente una breccia nel perimetro l'intera zona deve essere esposta ad una luce ultravioletta e poi lavata con della candeggina coloro che sono sospettati di infezione devono essere isolati in quarantena per almeno 10 giorni se nessun sintomo si manifesta dopo il decimo giorno la quarantena può essere devocata descrizione scp 081 è un virus contagioso che sembra essere una versione mutata del virus ma con segmenti nel suo rna invece di il virus è una specifica umana ma si diffonde tramite i ratti che agiscono come trasportatori passivi scp 081 può essere diffuso tramite rapporti sessuali o tramite sangue infetto scp 081 infetta adipolisi e leucociti inducendo entrambi ad assorbire con un tasso accelerato i nutrienti una volta che i nutrienti vengono assorbiti le cellule b infette producono e secernano quantità vaste di anticorpi umani modificati la dipolisi si espande e prolifera e l'apporto di calore dell'organismo aumenta quando la concentrazione di tessuto adiposo raggiunge un livello critico gli anticorpi virali istigano cellule sistemiche di lisi seguiti da un processo sconosciuto che porta alla combustione spontanea dell'individuo infetto vi è un periodo di una settimana di incubazione prima che si verifichino i sintomi iniziali la durata dei sintomi dipende interamente della percentuale di grasso corporeo dell'infetto l'infezione procede attraverso quattro stadi differenti stadio 1 durante la prima settimana non ci sono sintomi maggiori anche se i soggetti riportano una lieve stanchezza stadio 2 nella seconda settimana di infezione i soggetti iniziano ad avvertire vampate di calore e un aumento dell'appetito stadio 3 i soggetti infetti dimostrano un'estrema polifagia faranno tutto ciò che è in loro potere per ottenere del cibo o qualsiasi cosa commestibile durante questo stadio il metabolismo rallenta in maniera notevole ed il peso aumenta velocemente non c'è un periodo di tempo preciso prima che raggiunga il quarto e ultimo stadio affinché il virus completi il suo ciclo vitale la vittima deve essere composta dal 55 per cento di grasso corporeo stadio 4 una volta che il soggetto raggiunge il 55 per cento di grasso corporeo il bisogno di nutrirsi si arresta anche se i soggetti riportano un aumento esponenziale delle vampate di calore subito dopo il corpo subisce un'espansione delle cellule lisi in forma violenta non appena le cellule bruciano gli anticorpi catalizzano l'accensione sui composti grassi attraverso processi sconosciuti il corpo viene incenerito dall'interno attraverso l'effetto stoppino weak effect con il grasso supplementare impiegato come carburante dato che lo stadio 4 è decisamente asintomatico i soggetti non si allarmano quando la combustione si presenta e la tempistica è apparentemente casuale addendum 081 1 il primo incidente registrato di scp 081 è stato documentato nel 1673 dal francese jonas dupont nel suo libro d'incendie compagnie men spontanee scrisse il caso di un uomo assolto dall'omicidio della moglie dato che la giuria consentì che la moglie fosse morta per combustione spontanea doveva essere notato che la donna era incredibilmente sovrappeso nel momento della sua morte non fu notato finché la morte di mary reaser il 2 luglio 1951 quando scp 081 venne all'attenzione della fondazione nonostante gli sforzi della fondazione questa informazione è stata diffusa ai media nazionali con tanto di foto dell'incidente si crede che la maggior parte dei casi di combustione spontanea siano causati dal scp 081 addendum 081 2 si stima che scp 081 esista dal 9 e che si sia originato nel dato che la povertà e la malnutrizione diffusa su larga scala era presente in molti paesi europei i casi di terzo e quarto stadio erano rari il nord america ha avuto esperienze con molti casi di scp 081 durante l'ultimo secolo ma grazie alle condizioni igieniche il controllo attivo della popolazione dei ratti i casi di scp 081 sono carati notevolmente poco più di persone all'anno muoiono per l'ultimo stato di scp 081 addendum 081 3 a causa dell'attuale epidemia d'obesità negli stati uniti è importante che sia sradicato scp 081 l'esposizione che risulterebbe da una grande scala di epidemia potrebbe rendere disastrosi i tentativi di contenimento dottor addendum 081 4 durante i test è stato riscontrato che le persone che soffrono di diabete hanno una immunità naturale a scp 081 questo non ha aiutato allo sviluppo di un trattamento per il virus e rimane incurabile si prevedono infezioni selvagge e una causa alternativa di morte addendum 081 5 è stato riscontrato dall'agente che scp 081 può diffondersi tramite l'esposizione delle ceneri della vittima deciduta protocolli di continenza epidemica e contenimento sono stati emanati e il personale di servizi d'emergenza che risponde al nome di ms sono stati richiamati per l'evacuazione dottor